E' diretto a Reggio Calabria E' in arrivo a binario 4 Ferra Abattitagna Vallo della Lucania Castelmuoco Sabri, Mareper Scaliar San Domenico Palao, Aula, Ananfea La Mezzia, Verne Centrale Vivo Valencia Viva Coglie d'Aro Vida San Giovanni La mezzia, I python, che fauna Sevicichia Viva Sanna Viva Sanna 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 Grazie a tutti.